Amici siamo arrivati nel posto che vi abbiamo fatto vedere stamattina e siamo pronti a fare i bagni di gong. Cosa sono i bagni di gong? Sono una pratica di meditazione che usa il suono del gong per creare un'esperienza di rilassamento e meditazione profonda. Poi durante un bagno di gong la persona si sdraia, ascolta il suono del gong che agisce come una forma di massaggio sonoro per il corpo e la mente. I gong aiutano a rilasciare la tensione, a creare proprio uno stato di calma e tranquillità, poi comunque aiutano a ridurre lo stress, favoriscono l'aumento della concentrazione, della consapevolezza e stimolano anche il sistema immunitario. Tra l'altro aiutano anche a liberare i blocchi energetici e ad equilibrare i chakra. Sì, 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 perché gli schemi di frequenza del suono del gong entrano in risonanza con la frequenza sonora caratteristica di ogni singolo chakra, facendoli vibrare alla risonanza per loro ottimale. Ecco, quindi noi andiamo e vi faremo...